Un laicato in uscita per una chiesa in uscita è l'orizzonte di riferimento indicato da Papa Francesco ai partecipanti all'Assemblea Plenaria del Pontificio Consiglio per i Laici. Ripercorrendo i 50 anni di attività del di Castero Vaticano, Bergoglio ha fatto riferimento al crescente ruolo della donna nella chiesa, con la sua presenza, la sua sensibilità e i suoi doni. L'esortazione di Francesco al mondo del laicato è quella di alzare lo sguardo e guardare fuori, attenti ai lontani del nostro mondo, alle tante famiglie in difficoltà, ai settori di apostolato ancora inesplorati. Numerosi laici dal cuore buono e generoso, fa notare il Papa, metterebbero volentieri a servizio del Vangelo il proprio tempo e le proprie capacità se fossero maggiormente coinvolti e valorizzati dai pastori e dalle istituzioni ecclesiastiche. Laici che per Bergoglio devono essere improntati alla fisionomia di una chiesa chiamata ad essere comunità evangelizzatrice in permanente uscita. Abbiamo bisogno dei laici che rischino, che si sporchino le mani, che non abbiano paura di sbagliare, che vadano avanti. Abbiamo bisogno dei laici con visione di futuro, non chiusi nelle piccolezze della vita. Abbiamo bisogno di laici col sapore di esperienza della vita che osano sognare. ed oggi, ha concluso Francesco, è il momento in cui i giovani hanno bisogno dei sogni degli anziani, che abbiano quella capacità di sognare per dare a tutti noi la forza di nuove visioni apostoliche.